Eccoci qua, siamo sul Tevere, anche se non siamo a Roma, però siamo qui sul fiume Tevere con le nostre tavole Ton Caruso, stiamo avviando qui dove ci sarà la manifestazione, vedete stanno preparando i nostri tecnici specializzati, stanno preparando tutte le tavole, qui sta portando le canoe, stanno portando un po' tutto quello che serve, qua c'è un Dragon Boat, un Dragon Tiberis, lo vedete, le canoe, adesso fermiamo un attimo, hai filmato prima di andare a sbattere dentro le canoe, eccoci qua di nuovo, adesso fioreremo il Dragon Boat che vedete qui ha la punta davanti dove verrà inserito l'armo del dragone eccetera, non so come lo chiamano, Rostro, qui abbiamo Marco Bedin che sta montando le canne da pesca, ah no, pare che invece delle canne da pesca siano delle bandiere, quelle di AECS, mancano solo quelle di Blue Dreaming perché quel patacca doveva portarle e si è dimenticato. Solo le mani ci sonoate, le mani sono state portando le ravventure, non c'è della caia in acqua dove è portato le canne da pesca e la distrazione abbonica, quindi un secondo da basso e poi il تع explicitly è reliable in acqua, zona是ば beaconée, possiamo rimbettarla un sacco più alla quantità c'è meno alla base, È stato recontissimo, biotechimo, cominciato, con un sacco da pesca, di sicuro che se сказati come Jieco ad un commonник ora russo qui mett per e quel momento? Poi cominciate, la sieco per könnte, comunque la poteca è una macia, poiushing iisce pi pra chi? . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.